Mamma, tra un po' è il mio compleanno Cosa mi regali? Cosa mi hai preparato? Hai preparato già un regalo? Cosa? Un gatto? È un gatto! Voglio un gatto! Voglio un gatto! Voglio un gatto! Ma tu mi regali un gatto? No! Buon compleanno, amore! Cosa c'è dentro? È un gatto! 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 Come lo chiameremo? Urina! 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 Mamma, guarda, urina bambola! A porco! Cosa? Lui ha fatto caca sul tavolo Allora, o tu vai con lui fuori, o io lo butto via Va bene, vado insieme con lui Beh, mamma, lui puzza E poi ha trovato qualcosa in omondizia Cosa? Questo? Più 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 Grazie a tutti